Fiori chi vuol comprare, rosette e gerzumini, oh che bell'amorini, fiori chi vuol comprare. Mi ricordo bello quando mi ero, tipo sposato. Quando mi sono sposata, quando sono nato i figli. E quando mi ero sposato? È stato bello, tutta l'alegria, tutte cose. Bello, eh beh, avevamo pranzato, poi siamo andati in viaggio, sette giorni. Mi ricordo bello che la domenica avevano fatto la strada da Carcata-Faleria, quelli ricordi belli nostri, che andavi a fare una passeggiata, non è come adesso, prendi la macchina per fare una passeggiata, no? Noi andavamo sulla strada romana. Ecco i ricordi belli che avevamo. Quando era di maggio, che si faceva la processione, che noi, diciamo, ragazze, noi, da piccole, prima piccolissime, poi le beniamine, poi le aspiranti, e poi tutti i vestiti del bianco. E andavamo in processione. Ecco le cose belle che ci avevamo avuto noi. Il primo di dicembre, Sant'Anziano, le sei, San Nicolò che va per via, le sette, Sant'Ambrogia di Milano, l'otto, la Concezione di Maria, il ventuno, Santo Masso Canta, il venticinque, la nascita santa. Era il 30 aprile del 49, va in chiesa, allora non c'era niente, non era come adesso. Uscivi, mi ricordo, da un garage, lì avevano, ho cucinato, c'erano i parenti, quelli più stretti. E ho fatto un matrimonio con pochi invitati, perché sordo c'era. Poi ti apposta a casa tua, un paio da mamma, ci mettessemo certe scalette a fresco. Prima si andava a ballare le case, da ragazzette, i ragazzi, i ragazzi, tutti ballavi, i compleanni non si facevano, perché non si facevano. La calcata era bella, perché stessimo tutti uniti, ci volessimo sempre bene, stava male una mica, o una vicina l'aiutavi. La calcata era bella, stava bella. La calcata era bella, Grazie a tutti.